neanche tre giorni sono passati da quando ho cominciato a fare l'idiota su facebook su youtube e già arrivano i provini ne è arrivata una adesso mi ha cominciato a dire ma voglio fare l'inviata d'assalto se mi fai un provino di qua e di là mi ha fatto gli occhietti dolci l'ho dovuta accontentare non se l'è cavata male adesso ve lo faccio vedere poi giudicherete voi buonasera siamo qui in diretta dall'ok di misano adriatico vero giusto mi riuniti per messaggiare il compleanno di mickey maurin e anche mickey mouse dell'eli e di gioia di gioia che è quella ragazzola non so di chi altri io vorrei fare la domanda ai nostri commentari in particolare a lui scusatemi il cazzo cosa ne pensa cosa ne pensa della frase i vostri etilometri non fermeranno la nostra sede scusatemi il cazzo merda tu odio voi per il momento io porterei la parola alle donne questo è quello che è lei ha parlato la parola alla festeggiata non so perché quando dico donne si avvicina a Bormio comunque va bene le donne cosa pensano di questa serata di questa serata un'opinione dalla festeggiata e forza lei la domanda anche a una ragazza la parola all'estate siamo a Italia Filippino e cosa pensano di che fanno di minare e di gara? non pensano di minare e di gara? non pensano di minare non pensano di minare ma non pensano di minare ma non pensano di minare non pensano di minare ma non pensano di minare non pensano di minare ma non pensano di minare chiediamo anche alla ragazza cosa dimenti della frase i vostri etilometri non fermeranno la nostra sede e il segnale La Saraghina TV per il momento è tutta, ci raggiorniamo più tardi quando saremo ancora più carichi